Il bisturi, che cos'è il bisturi? E' una scheda di unità stratigrafica, metro, tavola Mussel, ce l'abbiamo Francesca, è azzurra, fantastico, avete la scheda? E voi siete la scuola di nonna Lucia, adesso non lo disse, forza, Lucia, due, allora, domandina, una bella domandina. Allora, aspetta, dove sei tu? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei bianco ancora contesa con qualcuno, c'è chiamata qualcosa che ti serve, ti ritieni ancora in secchio, vediamo. Qual è il dado? Nero, ho trovato il tetto nero. Scegli un gettone strumento del colore che vuoi, ma solo se rispondi una domanda al reperto. Musica Grazie a tutti.